cambiati un po più maturi forse nel nel giocare il calcio poi sicuramente abbiamo avuto due strade diverse per un paio d'anni io ho avuto altri allenatori ho fatto altri moduli lui è andato a farle il suo calcio da altre parti però sicuramente siamo usciti un po più maturi su ogni punto di vista sicuramente la lazio è sempre stata una squadra che ha dato fastidio a tutti e sono tanti giocatori forti qua quindi pressionati sono tantissimi giocatori forti che non sono anche farti nomi per esempio ciro immobile è uno tra i più forti attaccanti che quando pensi di averlo contro dici davvero ti dà noia poi quando c'era in squadra dici meno male che ce l'ha in squadra quindi c'è lui c'è serghei luisa alberto felipe c'è tanti giocatori che sono forti e stanno continuando a farlo vedere sicuramente è stata anche una marcia in più venire qua quando ho visto che c'era anche mister sarri poi anche sapendo che la lazio non voleva era già nei pensieri miei perché è una squadra forte è una grande società e non è che ci ho pensato moltissimo per scegliere la lazio poi sicuramente il tempo non si sa però c'è da dire che stiamo migliorando ogni partita stiamo limando le ultime cose che stiamo facendo un po male ma sicuramente col mister in campo con gli allenamenti che stiamo facendo sarà una cosa veloce e torneremo forti sulla partita di torino si sa che è una squadra forte si sa che l'annunatore che sa giocare a calcio bisogna andare convinti che noi siamo la lazio siamo una squadra forte dobbiamo credere noi stessi e andare lì a fare la partita noi sicuramente bisogna vedere partita per partita perché non si può sapere niente del futuro come non si sa niente sulla vita quindi bisogna andare in campo cercare di migliorare dove sbagliamo e poi a fine anno faremo i conti vedremo dove siamo arrivati come detto anche prima col mister in campo con i ragazzi che sono disponibili a lavorare duramente per tornare a fare il modulo che dice il mister e la pressione che dice il mister perché anche bisogna sapere che la lazio giocava da un paio d'anni a 352 quindi per alcuni giocatori è abbastanza difficile cambiare modulo veloce quindi ci vorrà un po di tempo ma come ho detto anche prima vedendo il campo vedendo le partite stiamo già migliorando abbastanza e poi non penso non pensiamo nessuno al derby perché abbiamo visto che tutte le partite sono difficili come col calire come con la spezia come con tutte bisogna stare attenti a ogni partita e poi pensare alla prossima perché se no qua si sbaglia qualcosa di diverso non è che c'è qualcosa di diverso secondo me è ancora più motivato dopo le esperienze che ha avuto e lo vedo carico per il lavoro con la lazio lo vedo che gli piace lo vedo che in campo sta dando quello che dava già empoli come ricordo io che è una cosa molto importante come sta trasmettendo pure ai giocatori questa voglia di cambiare modo di cambiare il gioco di di andare sui suoi suoi indirizzi perché prima o poi ci divertiremo